Il nostro maestro è il nostro maestro di Klasna, la firma. Il nostro maestro è una carta per Minerva Etnicoq, che è il nostro gruppo di DPS. E qui il nostro maestro è una carta per sopra che la preoccupazione è molto grande, ora che è una carta di scorsi in Adrenta, per sopra che è per creare un precedente, ma che è molto peligroso, non per noi, ma per il nostro maestro di Aruba, per sopra che c'è una procedura, ora che c'è un chego, non c'è nessuno di me, nessuno di me, nessuno di noi, non c'è nessuno di me. È qualcosa di standard, una scuola ha la procedura di seguire, e la procedura è a seguire, quindi c'è una conversazione tra il maestro e il maestro. E io ho capito che c'è anche il nostro maestro di Handshakes, che non ha risolto il problema a livello di scuola, ma non è deve essere. Lo che passa dopo è che il maio ha deciso di avere cose che è più leo, e ora io ho capito che ha in su carta di scorsi. Che cosa è che a me, per noi come maestro, che ogni maio, qualche maio, per base di un maestro, è un chego con tra bo come maestro, e non è contento con bo, of whatever, e ora inna non c'è una scorsione. È così semplice che il nostro maio. E questo è un presidente molto più peligroso. E' un altro cosa che noi stiamo a cercare di procedura, che noi stiamo a scorsi, che noi stiamo a scorsi, perché ci sono come un chego drenato in una scuola, contro di un maestro, e ora non c'è anche un inspectore di scuola. E ci sono, per esempio, anni passati, tutti i valori è messo un maio, che è un maestro di scuola di 5e classe, che mi ha comprenduto che è l'amenazza open, che è la sorgere per il tempo per il trabato, ma il tempo è la procedura che ha seguito l'attacco, che l'inspectrice ha avuto la scuola, e ha avuto una nota di ciò che è succeduto, l'attacco di scuola, eccetera. Lo che si mi chiede è aggiungere, e che è importante per tutti i ragazzi, che non stiamo a parare qui, non stiamo a fare una battaglia di partito politico contro l'altro. Perciò, guardando con i nostri colleghi, i nostri nomi, non stiamo a fare un partito politico, che non stiamo a fare una base di un partito politico, e stiamo a dire che, se qui ci sono state, che ci sono state un'amena di adicchare, e la procedura non stiamo a fare una maniera di stiamo. e la procedura non stiamo a fare un'amena di un'amena di un'amena di un'amena di un'amena di un'amena. Grazie.